Allora, accendiamo adesso delle spie all'interno degli studi di amici di Maria De Filippi dove fanno, ecco, dove si allenano, sentiamo, c'è già la musica. Ok, così, ragazzi, forza. Quattro, catello, mi piace così, vai. Catello, si chiama. Forza, così. Allora, fermi tutti, fermi tutti, ferma la musica, ferma la musica, ferma la musica. Allora, ragazzi, qui bisogna stare attenti perché sabato c'è la sfida, ok? Tutti a fare la doccia, forza. E tu no, catello. Catello, vieni qui, ti devo parlare. Ma perché sempre io? Perché tu, c'è l'unico che non riesci a capire bene come funziona. Ma perché? Io non posso presentarti alla sfida così, capisci? Ti devo dare due notizie. Sentiamo. Allora, una buona, una pettiva. La buona è che finalmente, quando balli, ti vedo scolottare. Andiamo a bere. No, le premesse, capito? Mi piacciono mille. Hai capito? È una lezione importante perché uno, per essere un buon ballerino, devi essere un po' effemminato, capisci? Davvero, sì. Non lo devi dare a vedere, capito? Sì. La brutta notizia è che però ti vedo dopo una stagione molto rugginito. E vabbè, che devo fare? Allora, bisogna togliere questa rugginito. Eh, lo so io. È il motivo perché siamo io e te da soli in questa sala. Sì. Eh, e quindi? Cosa vuoi? Che dobbiamo fare? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Allora, per prima cosa, ti ungo. Io voglio che Maria di Filippi, quando sabato ti vede, ti svegli un altro catello. Sì, vabbè. Allora, ti ungo con questo olio di cecciola. Ecco qua, non scappare. Adesso anche di spalle, girati. Ora che sei girato, chinati, chinati. No, 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 no. Prendimi la portiglietta d'olio che è lì, dai. Io tutte le mani unti non posso, dai. Tappi alla bottiglia, oh. Dai, allora, adesso che sei unto, ti insegno una nuova figura di danza. Allora, si chiama... Catello, cosa vedi? Devi essere un serio, non ti mando in sfida. Sono preoccupato. Allora, il salto della capretta. Oh, questa figura, beh, non mi piace mica tanto, eh. Il salto della capretta è una figura fondamentale. Qui ad amici di Maria di Filippi, lo facciamo tutti. Lo capisci? Allora, tu fai la capretta. Ti immagino. Che devo fare? Per vedere il tuo piegamento, perché se no nel balletto mi rimane inquichetto, ok? Allora, piegati in avanti e adesso salto su. No, 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 via. Dai che salto. Forza, aspettami per la capretta. Vieni da. Dove vai tutta unta? Vieni da con le mani di dosso. Dai, dai. Fatti mungere dal tuo pastorello. Pastorello. Grazie. Amici. Steve Catello. Eccolo là. Ma sentilo qua. Allora, il brano che state sentendo sarebbe Jump di Van Halen, però fatto egregiamente da Polanca. E Polanca domani sarà nostro ospite. Sentite che roba. And nothing ever gets me down. You got her tough. I've seen the toughest around. È bella questa. Wow. E domani ce l'avremo qui dal vivo.